Eccoci nel salotto Cop di A Tutto Volume con Linda Giannattasio, benvenuta. Grazie, grazie, buonasera. Autrice del libro Io dico no alle fake news, un libro che in realtà nasce come destinato ai ragazzi ma tutti noi anche da adulti avremmo mai bisogno, non c'è un'età per contrastare, per essere messi in guardia da queste fake news soprattutto in un periodo come quello che abbiamo visto. Assolutamente, non c'è un'età, è un libro per ragazzi ma insomma dai nove anni in su è indirizzato a tutti perché io dico sempre in realtà cercare la fonte delle notizie, cercare di capire se quello che stiamo leggendo è vero o falso è importante per tutti e cadere nel tranello purtroppo può succedere a tutti, ai più grandi, ai più anziani perché sono meno avvezzi a gestire i social, magari il mondo di internet ma anche ai ragazzi che sono nati con internet e quindi ritengono che tutto quello che si legge lì sia giusto e sempre vero e non è così. Anche perché le fake news hanno delle caratteristiche tali che un po' ci dicono quello che vorremmo sentirci dire quindi fanno breccia per questo. Tu sei giornalista e a fianco di Coronado Formigli a Piazza Pulita sulla 7 quindi con diverse rubriche. Sei specialista nel debunking e nel data journalism. Cosa possiamo dire su questi? Allora, io a fianco di Coronado Formigli a Piazza Pulita dal 2011, praticamente dalla nascita del programma e tra le varie rubriche che ho curato ce ne sono state diverse che erano proprio dedicate al debunking quindi a sbufalare le false notizie e in generale al fact checking, quindi alla verifica dei fatti addirittura una delle mie rubriche si chiamava proprio che bufala e devo dire uno dei fenomeni che poi è andato avanti nel tempo e quindi sono diventata un pochino l'esperta del double check come scrive Corrado Formigli nella prefazione del libro sono quella che verifica sempre tutto due volte il mio soprannome è la Cassazione, quindi diciamo quando poi arrivo a dire qualcosa soprattutto diciamo in questo periodo in cui è così difficile cerco di dire tutto quello che è verificato C'è qualcosa così brevemente che puoi consigliarci su questo libro? Magari una delle cose più importanti a cui dobbiamo far caso e stare attenti? Allora, ci sono alcuni consigli, ovviamente io ne parlavo anche con i ragazzi durante la presentazione qui al Festival a tutto volume ci sono dei consigli che si possono dare, quindi state attenti ai titoli quando i titoli sono troppo urlati, quando c'è chi vi dice quello che non sapete tutto quello che non vi dicono, insomma c'è qualcosa che non va state attenti anche alla firma perché quando c'è la firma su un articolo o su un post c'è qualcuno che ci ha messo la faccia, quando non c'è dubitate e poi andate sempre a fare una verifica in più anche online, anche velocemente sulle foto, sui video, andate a cercare quali sono le date corrette perché a volte lì si nasconde l'inganno, una foto viene presa decontestualizzata e diventa tutt'altro e viene interpretata in tutt'altro modo Allora faremo tesoro di questi consigli e buona lettura ai nostri lettori Grazie, buona lettura a tutti